Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Quel Tale Ale Eccoci qui oggi con un nuovo titolo perché oggi ragazzi siamo con Tale of Speria Definitive Edition che è una rimasterizzazione con contenuti aggiuntivi di un gioco uscito nel 2008-2009 tra Oriente e Occidente per Xbox 360, ora è disponibile su più piattaforme, noi siamo su PlayStation 4 e oggi con questo video andrei a provare insieme a voi appunto questo titolo che è un JRPG e andremo a vedere magari, non so, i primi minuti barra la prima oretta di gioco quindi partiamo subito con una nuova partita e andiamo alla scoperta di questa Definitive Edition non so quanti di voi l'abbiano già giocato al tempo, nel caso fatemelo sapere nei commenti per quanto riguarda, allora configuriamo un attimo le impostazioni velocità, messaggi, veloci, normali, lenti, facciamo una cosa, normali difficoltà, battaglia normale, vibrazione, ok per quanto riguarda invece il doppiaggio è possibile scegliere sia l'inglese che il giapponese io ho messo il giapponese perché in questo tipo di titoli ci può stare allora i sottotitoli ce li abbiamo tutti selezione carattere tipo A, vabbè questo lo vedremo penso che siano tutti abbastanza visibili forse in realtà questo qui è più visibile va bene avviamo la partita e come detto fatemi sapere quanti di voi l'hanno giocato e quanti invece approfitteranno di questa nuova versione è Grazie a tutti 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 Ho messo il doppiaggio giapponese Poi volendo si può mettere anche quello inglese Se volete Io vi dico un po' tutte le varie opzioni disponibili Abbiamo visto qual è l'emergenza attuale Naturalmente queste sono avventure molto ma molto lunghe Yuri eccoci Presumo siamo noi Non ho la più pallida idea Sì ok Ecco il nostro avventuriero Vita nel sestiere popolare Bello del giapponese che alcune volte Frasi lunghissime le dicono in poche sillabe Poche parole parlate Altre invece durano una vita per dire qualcosa di molto breve invece Eh state freschi qua eh Per quel senso Che fa li prende pure in giro Vabbè sta al gioco dai Sì Naturalmente come detto Facendo un video singolo Magari dedicato a questo titolo Almeno Secondo me dobbiamo farla Perché sono titoli molto molto lunghi Che raccontano storie Molto ma molto belle Ci vuole sempre un po' Per i JRPG Così come i GDR per carburare Per entrare nel vivo dell'azione C'è sempre quella che è Un'introduzione a quella che sarà la nostra Avventura, il mondo di gioco Eh, guarda caso Scusi eh, dobbiamo andare Dobbiamo andare Eh, a sto punto sì Eh, guarda caso Ok Allora andiamo nel Quartiere Reale Io intanto sto guardando anche I fondali disegni Perché come detto non lo giocai all'epoca E visivamente sembra essere Come detto spettacolare Ok Questici bimbi che vogliono diventare avventurieri E Bazar delle fortune capitale imperiale Oggi abbiamo merci di prima qualità Prezzi stracciati Allora fammi vedere un attimo cosa si può acquistare Gelatina alla mela Medicinale Acqua infusa energia lente magica Informazioni sui nemici Non usarla mai per fissare il sole Ok Va bene al momento no Era tanto per Arrivederci Dov'è che dobbiamo andare Nel senso Vabbè presumo di qua Ma come il reporter delle meraviglie Lascia fare Va bene Va bene Va bene Ok Diario delle meraviglie Album pieno di articoli pubblicati da Meraviglie Editore Stai aggiornato Attraverso il diario delle meraviglie Puoi accedere alle sinossi Della sezione Libreria Nel menu Ok Poi vedremo Ora Al momento Questa è pausa Non so se Vediamo un attimino Non so se poi Quale è il suo Poi Ok In realtà magari possiamo mettere Un po' Oppela Un po' più veloce La Si perché pensavo i dialoghi Schippassero direttamente Invece siamo noi che comunque Dobbiamo cliccare Però forse Semplicemente la velocità Con cui escono I sottotitoli Appunto Quindi possiamo anche Velocizzare un po' La situazione Ok Ok Doveva stare lì Eh Poi capiremo Infatti magari uno basterebbe Per tappare La perdita Ok Allora Nobili E quindi qua Già iniziamo a vedere Come ci siano Delle disparità sociali Tra una zona Del Nel mondo Diciamo E l'altra Intanto volevo vedere Un attimino Una cosa Cucina Libreria Opzioni Salva Carica Configurazioni Allora facciamo una cosa Veloce Questo qui E poi vi faccio vedere Anche se Oddio non mi ricordo Se è fattibile Quello del Modificare Il Il doppiaggio Regola luminos Oddio me l'aveva detto All'inizio Ma Non mi ricordo Allora Avevamo visto Che veniva da qui Il nostro Ora Effettivamente Non so se Andiamo giusti o meno Ah quindi ci Insinuiamo Abusivamente Va bene Va bene Qual è il problema E Oddio in realtà No Però Sta guarda il capello Oddio se abbiamo bussato E non ha risposto Forse non c'è proprio Però Qui no Ok Presumono anche qui Ok JRPG Quindi Classico Gioco di ruolo In stile Giapponese Dovrà esserci almeno Una porta aperta Da qualche parte Sì infatti Prima o poi la troveremo E combattimenti a turni Dovrebbero essere Ecco Ce le abbiamo provate tutte Ce le abbiamo provate tutte Vabbè Ho recuperato quello che ci serveva Non so eh Eh ok no Ma Comunque il cane Barra lupo otto Con la pipa È una finezza Eh Se lo becchiamo Se lo becchiamo Tra l'altro Vi chiedo Voi quanti Tail Avete giocato Perché è una Ce ne sono di più Aspetta controlla Ok Questa è quella che Ma quindi Ok Possiamo controllare Qui in queste zone E per il resto Onestamente Non so se posso Riprovare qui sopra Perché No direi Di no Ok come non detto Allora riproviamo Aspetta Ah ok era qui Sì effettivamente La camera dovrebbe essere Bloccata Perché con l'analogico Destro Non la possiamo Ruotare Quindi No Ma scusi Dovete stare Guardate Pallopinco Ma scusi Vai proviamo Proverà il combattimento Ok e parte Il combattimento Allora Allora Di solito sono una pippa clamorosa In queste cose Però Sì vabbè Però scusate Dove andate Allora Allora Durante questo combattimento I controlli sono impostati In modalità Semi Automatica Muoviti avanti e indietro Con Le frese Alta Con Ok Usa R1 Per selezionare un nemico Come bersaglio Per cambiare bersaglio Tieni premuto E usa Ok Liberamente usando L2 L Ok Quindi Aspetta fate Ah quindi Esegui l'attacco standard Quindi è relativamente A turni No Quindi così Andiamo a modificare Ma vediamo Un attimino Sì Eh Oddio Non lo so Come detto Non avendolo giocato Vorrei un attimo Proviamo a Cambiare Ok Va bene Puoi anche sferrare Attacchi Mentre ti muovi Con L2 Ok Quindi facciamo Una cosa Ok Quando ti muovi Usando L2 Il nemico colpito Viene selezionato Automaticamente Come nuovo bersaglio Quindi se noi andiamo Di qua Ci seleziona Questo Perfetto Ripartiamo Ah ok Fase di difesa Vediamo Per proteggerti Dagli attacchi Ok A posto Vabbè Naturalmente Esegui un attacco Arte con X Più prepotente Lama azzurra Ok Ok Quindi Al momento Abbiamo fatto il tutorial Segui una combo Sferrando un attacco Standard Segui un attacco Arte Ok Quindi Tac No Aspetta Eh no Non lo fa Ok Adesso si A posto Naturalmente Questa prima fase È il tutorial Come potete Ben immaginare Ok Quindi questi Partono direttamente Così E lo posso Ah possiamo anche Come detto Saltare Aia 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 Dove 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 Vediamo Effettamente Però dovremmo Aia Si no no Non è a turni Comunque Errore mio Pensavo Fosse un classico Aia Mezzana Mazzagra Oh E niente Si però Il nostro personaggio È di una lentezza Glamorosa E niente Ok Abbiamo preso Un sacco di botte Però Vai Para Oh Piano Attacco vortice Parato Ando così Aia Bene Bene Cioè bene Tra virgolette E Un po' di esperienza L'abbiamo fatta Però ci abbiamo preso Un sacco di botte Si vede che non sono pratico Certo c'è da impratichirsi parecchio Però Aia Ecco Qua Combattiamo anche con questi La Finiamo subito Un sacco di botte E' Eh, giustamente Ahahahah, maido maido,忙しいね, Yuri-Rowell Boku mo忙しいけど, ちょっとだけ遊んであげるよ Boku nocumor Omae ra ga sooだから, Fren ga kurou surun da yo Aんな, na ri-a-ga-ri no show tai-chou ni wa Kou Owa ta ra, its mo no yom ni doku bo ni buci-こん de oi te kure Doe ka mo iれれば, hansei suru da, kou Ci hanno coregato de bot Nei,その例の盗賊が、南高ふらくの貴族のやかたからすんごいお宝の Chitterよ,盗賊もつかまった、トウヒンも戻ってきただろ Nya,そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでね Boku no Eheh,ここだけの話な, 漆黒の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ Boku no Tauzoku kikiru doka? Ufeng, otonasiku shiteru Zara zara, jitto siteru no mo 疲れる頃でしょうよ, otonari-san Sooo yuuu so, zibun de kangaen no ka? Ossan, hima da na Ossan, hidoi na? Ossan, kizu kuよ? Zara, jitto siteru no mo, otonasiku shiteru no Iheh, otonasiku shiteru no mo, otonasiku shiteru no Ha, ha, honto ni omoshiroi otsan da na C'è noc'è un progetto? che non è così come si è successo? è vero non è vero non ho capito come se non mi ha fatto come se non mi ha fatto se non mi ha fatto se non mi ha fatto non mi ha fatto voglio sapere se non mi ha fatto Grazie a tutti Grazie a tutti Chi aver ricevuto in dono da un estraneo forse mi aiuterà a evadere di prigione Ok allora di nuovo in cella vediamo Qua parliamo da soli Ah quindi siamo recidivi Allora controlliamo Anche qui Gelatina alla mela Medicina gelatinoso il 30% di punti Aspetta che vediamo un attimino noi come siamo messi Se siamo reduci ancora Cosa abbiamo fatto non lo so Ok niente sto provando a cliccare Magari non si può ora Eh guarda che aso Ma si Ok allora prima di tutto raccogliamo Ah no è un punto di salvataggio Sono formule lasciate dai maghi in boschi e città per registrare l'avventura dei viaggiatori Registro i progetti dal punto di salvataggio potrei riprendere Ok Non sono presenti in tutto il mondo Non esitare a usarli Ok salviamo la partita Il primo salvataggio lo facciamo Ok E perfetto Ora No non possiamo andare nel menu Possiamo però entrare nelle altre celle Magari per vedere se c'è qualcosa da Da rubacchiare No a quanto pare no Questo sta dormendo Lente magica Ok Presumo che ci possa servire per studiare No parla non mi sembra il caso Ehm I nemici Hai recuperato i tuoi averi Perfetto Di conseguenza adesso possiamo vedere No i punti Vita sono Recuperati E quindi vai con l'evasione Tanto poi rientriamo per far finta di niente Dobbiamo star qui A quanto pare una decina di giorni E adesso Eh sì che ci hanno visto Ah proprio scatta la rissa da panico Va bene Allora Un attimo Ci fanno comunque del danno Quindi conviene sempre stare Attenti però Aia Aia Aspettare un attimo Eh pure loro fanno Ok aspetta Cerchiamo di Combinare attacchi Ok Eeeh Dettagli grado Danni subiti Ok E' andata meglio con questi Che con gli altri Pensavo fossero Più Si ho capito ma Mi Contatto con un simbolo nemico Sulla mappa del mondo Attiva automaticamente Lo scontro Ok però Io non è che volevo Farmi beccare Che te sei fatto becca tu Perché Sopra a quanto pare Non so se sia Allora Eeeh Come la risolviamo Sta situazione Ok No vorrei capire Anche se possiamo Andare da qualche parte So che lì c'era No Chi è quella Di solito Questi giochi Si vanno a comporre Anche di una squadra Poi non so se Non so se attenzione vabbè spuntiamo per salvare la donzella no? 2 contro 1 barra 1 in realtà ecco adesso pure 3 grande così no non è Flynn in realtà saremmo i sostituti lascia fare i rimpiazzi dai che se questi sono giochi che pian piano ti fanno informare come se non ci fossero domani io come detto vi propongo eh il problema è quando effettivamente sono due conviene fare aspetta dalla distanza aspetta tutti e due vai ok occhio parati che fa la finta ah grande il nostro cavaliere olè manico di ferro per 1 aia ma così avvasate ci prende eh a questo punto no un momento ancora non saprei onestamente però diciamo di sì ok ok non 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 ah 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 si si non so se conveniva farci fare strada da lei visto che forse sapeva la strada però ci ha indirizzato qui quindi noi andiamo eh si ci fidiamo ahia i nostri sensi possiamo sguisciare eh non di qua però qua dovremmo cercare di fare una cosa stealth Ah, ok A cena? Ecco Eh, però adesso credo che Allora, l'ideale sarebbe quello di non farci Beccare Ora, in realtà non so dove Che dobbiamo andare Però, certo sarebbe un modo per livellare Anche questo, però Non so in realtà come funziona Il livellamento Però Noi con estrema steltaggine Ok, siamo rimasti fregati A meno, cioè in realtà non so come Si possano aprire quelle porte, se magari Questi hanno una chiave e quindi dobbiamo combattere con loro O se dobbiamo prima Fare altro, onestamente Non saprei Questo qua però vorrei Cioè dovremmo combatterlo Perché Ah, ok Bottiglia della vita Ok Zitti, zitti Non è successo niente Certo, se possibile possiamo anche evitare Il combattimento Allora, aspetta Prima di salvare Fatemi aprire qua Gelatina E quindi Ah, no, si scende qua Ok, andiamo a sovrascrivere E come detto Magari ci facciamo un'oretta Ragazzi di Perché Oh, bella Sono Ah, 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 ah Aspetta Vabbè, si è incastrato pure lui Quindi, tacchete Madonna, la leggiadria del nostro personaggio Ehm Aspetta Aspetta No, no Ok, grandissimo Aspetta un attimino Somma, ho tenuto a 200 Soldoni Anche qui niente Quindi facciamo Eh, vabbè, niente Vabbè, dai Ogni tanto Qualche combattimento Cioè, tanto se è uno solo Possiamo Tranquillamente Ahia Tranquillamente è una parola grossa Però Guardate, viene il tempo Ok, gradi Combo massima Ehm Sì, presumo che andiamo comunque a A livellare Ora non so questo Lente magica Vabbè, dai Andiamo In realtà ci sarebbe anche Aspetta Motive impostazione Abilità In che senso? Ah, no E ancora non abbiamo sbloccato Un gran che Strategia Moderazione alla carica Difesa Ci penso io Ok Questo vabbè quando Cucina Eh, al momento Libreria Sinossi Eh, record Vabbè, sinossi Abbiamo Pola Sintesi di quello che è accaduto Fino ad ora Ma al momento direi come detto Di proseguire L'abbiamo salvato Quindi andiamo qui giù Eh, non lo so Signorina Noi qua andiamo random Con quale emozione E vediamo Non so se c'era qualcosa In basso Vediamo Noi qua e Noi qua e Non so se c'era C'è stato uno scambio di persone In realtà eravamo nella sua camera Ma non siamo noi Scusi Questo sarà più aggressivo Aspetta Aia Molto più aggressivo Guarda però con che No che ho fatto Abbiamo dovuto qualcosa Ma oppela Aia Eh però la parata pure Buon uomo Un po' più Leggiadro Niente Abbiamo delle serie difficoltà Aia Eh 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 Aia Qua dobbiamo cercare di No Allora aspetta Facciamo così Eh però Qua ci vuole la bottiglia della vita No ci vuole Eh no Non va bene così Magari un po' prima Ari eccoci Ari eccoci Tra l'altro E appela Allora un attimino Perché C'è da dire che Quando perdiamo Ci fa ripartire Da capo E Non mi nascondo che Eh Ho abbassato la Cioè ho messo la difficoltà Dei combattimenti Facili signori Perché Mi ha devastato l'anima Per altre due volte Quindi non mi sembra Proprio il caso Perché ricarica Tutta la partita Non da capo Eh però Sarai che sono una pippa Clamorosa Io che mi devo un attimo Allenare Male però È ausenti Lascia fare Eh Sì È una bella Determinazione Comunque ha delle bellissime armi Quest'uomo Per quanto sia Palesemente sotto effetto Di stupefacenti Però Oppela Ci aiuta la signorina Attenzione Stendi Oppela Si forma la squadra Scappa Ok Vabbè Stai calmo Però Quindi qua Aia Non Non so onestamente Com'è che Funzioni la situazione Perché Ah così Ok Ah no Come pronto soccorso Oddio Va bene Pronto soccorso Per carità Ci sta salvando l'anima Che cosa sto premendo Aia Oddio la signorina Ci ha devastata la signorina Signora Mi spiace Ma non la capisco Con tutta la buona volontà Aia Aia Sto provando a pararmi Ma Quest'uomo qui È devastante Ok Aia Ma che cosa Ma eh Scusi Ci faccia giocare Un attimino Aia Non male Corrimesso facile Perché se no Qua ci stavamo Fino a dopodomani Signori Date pazienza Ma Ok 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 Segreta 1 Stivali di cuoio Più salvia Nuovo livello Oh Adesso si che iniziamo A macinare In un modo O nell'altro Ma dai che non ti raggi più in piedi Ok Questi sono i cattivi di turno Aia Ma la Ma scusi Aridagliela Questi si ammazzano tra di loro Va bene Scusi Il suo amico lo lascia qui Vabbè Comunque A parte tutto Grazie per la cura Piacere Estelisse Estelisse Nomi più semplici Per la mia memoria No eh Eh vabbè Che fa Rimonto io C'è anche un vaso rotto Infatti Eh vabbè Si è fatto intenerire Ok Adesso ci Ripariamo anche porte C'era un vaso rotto Namo a Allora Allora No Eh vabbè Però Questo è un attimo Cattiveria Lo dico Dovevamo andare Alla statua A vedere Eh il problema È per noi Amore e odio Diciamo così Oh Oppela Eh vabbè Ha detto che la sua stanza È poco più avanti Ora Ah eccola Sì però Signorina Questi corridoi Sono tutti un po' uguali Come fa La riconosce Va bene Aspetto qui Che fa Sbircia Scusi Ha fatto come a dire Guarda a destra Guarda a sinistra Salve No eh Eh Se Ah vecchio Marpione Ah Bene E questo è quanto Poi non ho capito Che ci ha fatto Cioè ha bloccato La porta Non Ok Vediamo Con quale Sound No no È più comodo Dai Così Vabbè Come sempre Questi giochi Sono anche Pieni di momenti Abbastanza Ok Ora è nel gruppo Fasi un po' comiche Un po' in fuga Vediamo Un po' in fuga È Marketing AncTH Allora Vorrei anche capire Un attimino lì sotto Non so se c'è qualcosa Non so neanche quale sia la strada esatta E quale Che fa appunto a noi Aspetti Proviamo a vedere qua dove all'inizio Ci aveva fatto vedere quella Qui No in realtà no però Abbiamo fatto bene a tornarci Bottiglia della vita Comune mantello Un accessorio diffuso tra i novizi E lo possiamo utilizzare Quindi in questo caso equipaggiamento Spada Abbiamo in realtà anche Accessori Stivali di cuoio Il martello Il mantello Dati abilità Dettagli Resistenza e debolezza Resistenza 10 Guarda metto questo qua Gli stivali E magari a lei Metto Il mantello Ad ognuno il suo qua Governe Ciali con il potere Dell'anello Quando le otto ali Saranno dispiegate Un cerchio di luce Illuminerà la figlia Del plenilunio E la quarta porta Si aprirà Ok Allora vediamo se Qua passando Da qui ci vedranno Cerchiamo un'altra via Vediamo Proviamo a passare di qua Onestamente non Ah eccola qua L'abbiamo beccata Aspetta Cioè penso sia questa Gelatina E vediamo anche qui Cos'altro c'è Gelatina Un momento prima di andare Alla statua Controlliamo che non ci sia Nient'altro Da recuperare Vediamo Tieni per avuto X Per afferrare Spingi o tira Gli oggetti Con L Allora Presumo che si possa Spostare solo qua Infatti Guarda là Hai visto? C'era ragione Si Però possiamo provare Orale Spetta Sule Spetta O No, stai scendendo. Per te sentire. Ah, buono. Pensavo che era una brastia di una brava, il risultato è così. È proprio ciò? È proprio ciò. E anche abilità curativi che avevamo visto già un pochino in combattimento, ahia Eh a quanto pare sì, che è un sorcione, che ne so Sorcioni clamorosi di un metro per due Attenzione Sì risolviamo la questione ma siamo circondati Ok, non so, volevo magari vedere di completare questa fase di, ahia, di evasione Ma qua, magari durerà ancora di più il video, no, soltanto è singolo quindi ce può stare, ce può stare Ahia Ahia In realtà converrebbe anche fare un po' di... dai e vai, su e giù perché Ahia Ok Volvere paralizzate, poi impareremo anche un po' Sì effettivamente Però, no, aspetta, prima di scendere Quando entri in contatto con un simbolo nemico alla battaglia si uniranno anche i mostri associati a un'icona vicina Fai attenzione perché ti troverai a fronteggiare un gruppo di nemici Ok, però al momento... eh vabbè No, eh, volevo prima cliccare sulla chiacchierata là ma... Ok Ok, al momento vorrei prima vedere cosa c'è in questi... Forzieri, ambete pazienza va qua Ok Ok Grazie a tutti Ok comunque Tornando a noi Bottiglia della vita Eh vabbè che fa Non incontri i social Ecco dei JRPG Una cosa che in generale Nei capitoli passati Nel senso nei giochi giocati in passato Eternal Sonata Lost Odyssey Un po' i combattimenti Randomici così Ok nuovo livello Poi capiremo anche Come gestire il livellamento E Qui in realtà Non sono proprio randomici Perché ad esempio in Lost Odyssey Uscivano Spunavano Senza che te ne accorgessi Quindi facevi un tot di Che abbiamo fatto? Abbiamo preso una nuova tecnica Qui li vediamo quindi sono evitabili Non è questo il caso Però Come fai a A non Liberare la strada Per recuperare qualunque cosa E poi magari spesso Non saranno neanche cose importanti Però Aspetta Possiamo afferrare questo E spostarlo Per Non so cosa Al momento Ma In realtà Qua sembra esserci No Non saprei Aspetta Aspetta Ok Aspetta Ok A posto Ok Ha livellato anche lei E Sì perché al momento Credo che C'è abilità Comunque Non ne abbiamo Da sbloccare Quindi Successivo Colti massi Va bene Poi Poi vediamo un pochino Possiamo evitarlo No Ok In realtà Non so se vi avrò tagliato Un po' di combattimenti Quella E tutto è possibile Si ha preso Acutezza Ok Ok Dai Aspetta Facciamo così Va Lì cosa c'era Qualcosa da Sbloccare Da recuperare Probabilmente Sì però Dai Facciamo Una fuga Se no Non ne usciremo Mai più Ma Sbloccare Sbloccare ... ... E' come un'era prima di fare questa volta. Ma... ... ... ... ... ... ... ... ... Sì, è così Ma, per favore, si è successo Sì, ok, per favore ... 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 E cosa fare questa sera? Un'ultimo che sopravvamo Hai dovuto lì? Il primo è stato parlato di giusti di giusti di caldini Eh, quello? Perchanno i monti diampicipi e spiegui. Bene È davvero dire che vi stai a fare il giusti di giusti di caldini Per il giusti dell'oro di giusti di giusti di giusti di caldini Perchanno il giusti di caldini E quindi giusti di giusti del giusti di giusti di giusti? Non ci sia un punto di salvataggio qui nei paraggi C'è da dire che questa statuina un pochino assomiglia alla nostra signorina e tra l'altro c'è anche da dire che probabilmente da come si è comportata sembra essere una persona abbastanza importante, non lo so, non lo so, lui ha fatto il finto tonto, meglio non è che abbia capito, però l'idea era quella forse per qualche motivo cercavano appunto di non farla sfuggire. Attenzione qua c'è un punto di salvataggio, abbiamo sbagliato strada ma abbiamo trovato un punto di salvataggio, quindi approfittiamo e ragazzi a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio diciamo di spippolamento, di scoperta, di visione della prima oretta di gioco, forse qualcosina in più di Tale of Speria, la Definitive Edition. Io spero che questo video vi sia garbato, come sempre lasciate like, condividete, seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook e Twitch per le live, proseguiremo con la scoperta di altri titoli, magari anche come questo con video singoli dedicati, poi non lo so se ci sarà modo di fare altri contenuti a riguardo, voi fatemi sapere la vostra nei commenti, noi ci vediamo con i prossimi video, un saluto a tutti da Queltaleale. Grazie a tutti!